Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è lunedì 28 novembre 2022, siamo pronti per la rassegna stampa, iniziamo insieme una settimana e anche la giornata con le notizie del giorno, abbiamo qui sulla nostra scrivania il Corriere Adriatico e il resto del Carlino pronti per essere sfogliati, ma prima passiamo però attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi è il santo, oggi si festeggia un santo particolarmente caro a noi marchigiani, si infatti di San Giacomo della Marca, un santo importante, visse nel XV secolo, nacque a Monte Prandone, fu un grande predicatore, frate Francescano, la sua vita è veramente un romanzo di avventure, girò l'Europa, Croazia, Ungheria, Austria, Bohemia, ovunque fece del bene e combatté le eresie, fece poi anche tanti tanti miracoli, morì a Napoli ma le sue reliquie qualche anno fa furono trasportate a Monte Prandone, la città dove nacque, ebbene chi ne vuole sapere di più potrà leggere tra breve una bellissima biografia scritta da Don Silvano Bracci, l'ex priore di Santa Maria Nuova, un grande scrittore, un grande biografo che ha ripercosso tutte le tappe di questo santo che è venuto anche a Fano, ha girato un po' tutte le marche, Fermo, Ascoli Piceno, Fizzum, tante tante località ma anche tutta l'Europa, è quindi un santo che fece molto anche dal punto di vista culturale, non solo apostolico per la Chiesa, per la religione cattolica. E vediamo le previsioni del tempo. Questa mattina c'era il cielo stellato ma nella giornata diventerà nuvoloso con una nuvolosità sparsa con nubi medio-alte in ispessimento nel corso della giornata. Le temperature sono in lieve diminuzione, oscilleranno tra i 5 e i 12 gradi, i venti spireranno sulle coste con una tensione debole da ovest e nell'interno invece da est. Dicevo le temperature sono in calo, il mare è mosso. Ed ora apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo un aggiornamento sul dramma di Anastasia. Anastasia il figlio è già con la nonna. Si parla ora, si accenta un po' l'attenzione sulla sorte di questo bambino di due anni e mezzo, si chiama Adam, che ormai è praticamente orfano dei genitori, il padre è in galera. Nei suoi confronti si cerca di togliere la patria potestà. È la nonna che ha attivato questa iniziativa. La nonna infatti intende occuparsi di questo bambino e vediamo ancora i titoli che enuncia il Corriere Adriatico. Custodia provvisoria garantita dai servizi sociali al momento con il consenso della famiglia di Mirko Carloni. L'esito dell'autopsia, poi è questo il fatto contestuale, per le decine di coltellate rilevate è incompatibile con la difesa del marito. Tante sono state le coltellate che sono state rinvenute nel corpo di Anastasia, il che vuol dire che il marito non si è difeso ma si è accanito sul corpo della povera ragazza. Quindi una tesi, quella della difesa del marito che è insostenibile. E il bambino? Il bambino al momento a loggia è stato affidato alla famiglia Carloni, ma la famiglia Carloni ovviamente ha accolto con tutto il calore la nonna del bambino. ieri era con lei, la nonna cerca un po' di ricostruirgli l'ambiente familiare, ieri gli ha preparato uno dei cibi tipici della sua cultura gastronomica, il goulash. Insomma si cerca di ricreare quell'ambiente familiare che era prima del terribile delitto che è stato commesso nei confronti della sua mamma. Comunque la sorte di questo bambino desta tanta tanta commozione perché insomma ormai gli è stato privato dell'affetto della sua vera mamma. Ma l'affetto non mancherà nei suoi confronti. Vediamo le altre notizie. Vediamo le altre notizie. A proposito della giornata contro la violenza sulle donne, che poi questo tema si protrarrà anche nei prossimi giorni, vediamo che ieri nel centro storico di Fano, in piazza 20 settembre, si è svolto un flash mob, uomini con le scarpe rosse. Una iniziativa che è stata organizzata dal Teatro Lavanda e dall'ente carnevalesca e alla quale hanno partecipato anche alcuni imam, sì alcuni rappresentanti della comunità musulmana giungono da Fermignano e da Fossombrone. Hanno indossato le scarpe rosse e hanno protestato elevando dei cartelli con la scritta in italiano ma anche con la scritta in arabo contro la violenza delle donne. Insomma c'è questa tendenza comune nel credere che l'Islam, che la fede musulmana consideri la donna come un sottoposto rispetto dell'uomo, invece questi imam dicono no, c'è pari dignità, occorre rispetto. E la parola rispetto è quella che viene propugnata con più determinazione dopo quello che si vede in tutti i giorni. Vediamo anche sui giornali un altro femminicidio, ne parleremo più tardi. E ieri è stata anche una bella giornata per delle iniziative che si sono svolte a Fano. Ieri soprattutto il bel spettacolo dell'accensione dell'albero in piazza 20 Settembre ha radunato una folla veramente grande. Il centro storico ieri era gremitissimo, non solo la piazza ma anche il corso, via Arco d'Augusto. Insomma tutte le vie principali della città, quelle che sono illuminate dall'atmosfera natalizia, sono state veramente affollate. Bello, dicevo, lo spettacolo che si è svolto in piazza 20 Settembre. Uno spettacolo ammirato da migliaia di persone. Tra fasci di luce che hanno così girovagato attraverso il cielo, fontane luminose, scintillante, nevicate artificiali, bulle di sapone che hanno fatto la gioia dei bambini. Uno spettacolo bello a vedersi, uno spettacolo che ha dato il calore dell'atmosfera natalizia. E poi anche il Pincio. Il Pincio è stato arredato sul suggerimento dell'architetto Stefano Seri in maniera veramente mirabile. Le luci sono sfavillanti. Il villaggio natalizio è denso di calore. Insomma un po' di pace, un po' di serenità, un po' di divertimento dopo tante tante disgrazie. E chi invece voleva così gustare i cibi tradizionali ha fatto una escursione al Codma, al Codma di Fano dove si è svolta la seconda giornata di sapori e romi d'autunno. In questa occasione prende il via anche il Bacala Fest, una manifestazione che ha così incluso una decina di ristoranti in tutto il territorio provinciale che cucineranno a prezzi convenzionati questo piatto che deriva dalla tradizione contadina. Sì perché ovviamente i contadini non potendo mangiare il pesce fresco quando volevano mangiare il pesce mangiavano il Bacala o lo stoccafisso. Si è svolta ieri la seconda giornata della mostra a mercato sapori e romi d'autunno replicando il successo della prima quando l'esposizione e l'offerta dei prodotti migliori di stagione hanno indotto veramente migliaia di persone a raggiungere il Codma e tra l'altro l'iniziativa non ha ottenuto soltanto un successo dal punto di vista commerciale ma ha dato l'opportunità a tanti frequentatori di frequentare il Salotto del Gusto dove ci sono stati degli assaggi e quindi anche qui l'olio d'oliva ha fatto veramente da padrone. L'olio d'oliva spalmato sul pane ha insegnato a tante persone a gustare la vera qualità di questo prodotto. Questo prodotto che poi salirà di nuovo alla ribalta il 17 dicembre prossimo quando al Codma si terranno le premiazioni del Fe del Gran Galà dell'Oro delle Marche. I migliori produttori verranno premiati da Olea che è l'associazione dei degustatori che sanno veramente indicare, scegliere qual è l'olio migliore. Ebbene anche questo vuol dire promozione della città. A questo punto vediamo una notizia che riguarda San Costanzo. Progetto contro la droga con polizia locale e alunni. È stato approvato dal Comitato Provinciale per la Sicurezza un progetto elaborato da San Costanzo per quanto riguarda la qualificazione della polizia locale in merito allo spaccio della droga per cogliere appunto, per cercare di combattere questo fenomeno. Il progetto è stato finanziato con 37.500 euro. Capisaldi del progetto, si legge in una nota del Comune di San Costanzo, sono la formazione e il rafforzamento delle attività di controllo da parte della Polizia Municipale e iniziative di carattere formativo, informativo nelle scuole. E quindi si cerca appunto di sensibilizzare i ragazzi a evitare questo tunnel che poi lascia degli effetti veramente disastrosi. E qua vediamo il femminicidio, il nuovo femminicidio che si è verificato. Questa volta non è un compagno che uccide la compagna, ma è un figlio che uccide la madre. Una cosa veramente abberrante. Uccide l'anziana madre a colpi di forbici e tenta di darle fuoco. È stato arrestato. È successo a San Severino Marche. Maria Bianchi è stata assassinata a 84 anni, in manette il figlio Michele Quadraroli. Probabilmente aveva delle turbe psichice e forse nel corso di una lite questo ragazzo, questo uomo, ha infierito nei confronti della madre, l'ha colpita con un paio di forbici e le ha sfregiato il volto. Poi addirittura ha tentato di bruciarla nel bagno. Insomma è stato veramente un delitto eferrato. Veramente una cosa terribile. Un fatto davvero orribile. Qui siamo tutti sotto sciocche, ha detto il sindaco di San Severino. I vicini avevano già detto Michele non sta bene. La vigilia di Natale del 2014, la morte del piccolo Simone, il bimbo accoltellato dalla mamma. Nel 2017 un altro dramma familiare. Questi sono un po' gli antecedenti. Quello che accade veramente non ha mai un limite per quanto riguarda quello che può fare un familiare nei confronti di un altro familiare. Vediamo le altre notizie. Parliamo di altri problemi. Parliamo di influenza. L'influenza è in anticipo. Pensate bene. È in anticipo. E ha già contagiato due marchigiani su cento. E pensate che la fascia più colpita da questa malattia è quella tra 0 ai 4 anni. Quindi è proprio l'età pediatrica quella che è più sotto attenzione. Si tratta della australiana. Così viene denominata l'influenza di quest'anno. Non è la pandemia, non è il Covid. È l'influenza normale. Si tratta di un'influenza in forte espansione. 31.151 casi stimati dalla rete InfluNet. Siamo sopra, nelle Marche, siamo sopra la media nazionale. La fascia d'età più colpita, dicevo, è quella fino a 4 anni. Non siamo ancora al picco per quanto riguarda invece la pandemia. Bene il vaccino e la mascherina. Tavio, primario di malattie infettive a Torrette, dice l'antitodo. È efficace e sicuro. Quindi dobbiamo avere attenzione anche per questa malattia. Un articolo di spalla. Coronavirus, siamo in piena seconda ondata. Mille contagi al giorno. Quindi attenzione nei luoghi affollati. Ancora sulla pagina di Pesaro vediamo che salgono i danni, il consuntivo dei danni che viene fatto per i problemi sorti a causa del terremoto. I danni salgono a 35 milioni a Pesaro. Per i beni pubblici lesionati, San Giovanni, nuove ferite e qui il convento di San Giovanni. Inviata in regione una seconda stima che integra quella iniziale di 20 milioni. 20 milioni sembrava una stima esagerata, invece non lo è affatto. Addirittura viene superata e si parla ora di 35 milioni. Nuove ferite sono emerse nel complesso monumentale della chiesa di San Giovanni Battista. Rissanata da poco, dopo i danni già subiti dal terremoto del 2016. E poi ci sono anche altri beni monumentali. Ovvero la cappella storica della chiesa di Sant'Ubaldo, datata 1618 in Largo Mamiani, nei pressi di Piazza del Popolo, proprio alle spalle della sede del Palazzo del Comune di Proprietà Pubblica. Ed ancora il complesso di Palazzo Ricci, in via Sabatini, con parti di copertura già pesantemente ammallorati, crepe e altre parti in muratura gravati dal sisma. Poi abbiamo anche i teatri, per esempio la Sala della Repubblica, il Teatro Rossini, e qualcosa da sistemare c'è anche al teatro sperimentale e al portale di ingresso dei musei civici. Quindi mano a mano che si fanno gli accertamenti, mano a mano che si fanno i controlli, si rilevano ancora crepe e problemi di stabilità di diversi edifici. Ma non solo edifici, problemi dal sisma sono stati rilevati anche nella rete idrica. Dall'alluvione, danni pesanti agli impianti e la rete idrica. L'alluvione e il sisma sono due cose concomitanti che hanno procurato danni a tutto quello che rimane anche sottoterra, quindi nei sottoservizi. Conto salato anche per Marche Multiservizi con l'elenco dei lavori più urgenti e qui si dovrà appunto intervenire per evitare inquinamenti, soprattutto nella rete dell'acquedotto. Giriamo ancora pagine sul Corriere Adriatico e vediamo come la sonosfera nel Museo Nazionale Rossini verrà dedicata a Sassoli. L'aveva inaugurata ed è un giusto tributo, ha detto il Vicesindaco Vimini. La proposta del Vicesindaco passa in giunta. L'intitolazione ha tre anni dall'apertura della sala. Era rimasto veramente incantato Sassoli, Davide e Sassuoli quando aveva inaugurato questo complesso così tecnologico, così suggestivo nel contesto ambientale del museo. Uno spazio per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica progettato da Davide Monacchi è parte integrante del patrimonio del Museo Rossini. Per Davide Sassoli la sonosfera rappresentava un esempio di straordinaria tecnologia ma anche l'attuazione concreta della lotta ai cambiamenti climatici, quindi una priorità assoluta alla quale si lega la sopravvivenza del nostro pianeta. Ed è un ambiente quello dove si vede, si tocca con mano quello che è la situazione attuale e dove andremo incontro e come andremo incontro se le cose rimarranno così come sono. Nella pagina di Urbino è stata scoperta un maxiparty abusivo, la festa interrotta nella notte. Si tratta di un'iniziativa in un ambiente privato a Montepolo di Urbino. Alle 3.30 di notte sono arrivati i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri e hanno fatto smettere tutto. Era un maxiparty abusivo appunto che si è svolto tra la notte, tra sabato e domenica. Nella zona di Montepolo, presso un agriturismo, oggi una casa privata, e qui si faceva della musica, c'erano tanta gente, nessuno aveva i permessi. La cosa era stata pubblicizzata su internet e quindi è stata accolta anche dalle forze dell'ordine le quali sono intervenute e hanno bloccato il tutto. Ebbene, gli organizzatori dovranno risponderne a livello di legge. E a questo punto possiamo dare un'occhiata al resto del Carlino. Vediamo le notizie che sono riassunte in prima pagina nell'edizione delle Marche, un'edizione oggi, come sempre, lunedì, viene redatta in forma ridotta. Vediamo quello che accade a Pesaro. A Pesaro viene riportato l'articolo che riguarda Valentino sul podio, ha portato i campioni nel suo ranch, Tavuglia, gare, grigliate, musica, a Casa Rossi per l'addio al 2022. C'era anche Bagnaia, che ormai è un po' l'erede di Valentino Rossi, e ha vinto la coppia, ma comunque ha vinto la coppia, Bartolini-Baldassarri. E poi c'è il problema del punto nascita, che dovrebbe essere aperto a Pesaro tra breve, e a Fano si rileva il flash mob delle scarpette rosse per gli imam in piazza, donne da rispettare. Qui, per quanto riguarda San Severino Marche, viene riportato il delitto compiuto nei confronti di una donna di 84 anni, uccisa dal figlio. Uccide con le forbici la madre di 84 anni. E poi le testimonianze dei clienti e dei vicini, la donna gestiva un bar, siamo sotto shock, lui non era mai stato aggressivo. E poi c'è il commento della sindaca, non c'erano segnalazioni ai servizi sociali di questo caso patologico, altrimenti, dice il primo cittadino, saremo intervenuti. Per quanto riguarda Ancone, invece, si parla delle primarie del centro-sinistra. Ida Simonelli sarà la candidata a sindaco, battuto pesaresi per 45 voti. A Falconara, un nuovo look di piazza Massini, video sorveglianza per la sicurezza. E poi un incontro pubblico, schiavi dell'alcol a 14 anni. Il Vescovo Spina, siamo tutti fragili, aiutiamoli. Non condanniamoli questi ragazzi, ma cerchiamo di risollevarli dalla china in cui sono precipitati di aiutarli, perché questo potrebbe essere un futuro migliore per loro. Ed ora apriamo la pagina. Vediamo qui come il resto del Carlino tratta il nuovo caso di femminicidio. Femminicidio, uccide la madre in casa a colpi di forbici, poi prova a darle fuoco, arrestato un barista. Sciocca a San Severino, la vittima è l'84enne Maria Bianchi. Il figlio Michele Quadraroli era in cura per malattie psichiatriche. A 84 anni lavorava per aiutarlo. Non era andata in pensione questa donna. cercava di aiutare il figlio, che sapeva che era in condizioni di salute non certo buone. I racconti dei vicini. Michele aveva avuto qualche problema, ma si era sempre dimostrato tranquillo. Lui non era mai stato pericoloso e in realtà invece ha reagito in maniera veramente inconsulta, veramente drammatica. Vediamo poi quello che accade a Pesaro. Eccola qui la pagina dedicata a Pesaro. La mia vita dalla guerra alle medaglie. Accolta a Villa Fastigi dopo essere fuggita da Kiev, ora la tredicenne ucraina Margarita è diventata campionessa di ritmica con Solaria. Margarita ha 13 anni. A marzo è scappata dalla capitale dell'Ucraina Kiev assieme alla mamma Ludmilla, al fratello Roma e alla nonna. Le bombe cadevano in città. Racconta in un italiano che ormai ha imparato in maniera molto molto buona. È stata accolta dalla parrocchia di Villa Fastigi dove il parroco Don Enrico e la sua comunità stanno facendo veramente un miracolo quotidiano nell'assistere questa gente. In otto mesi Margarita ha fatto più di un miracolo, lei stessa imparando l'italiano e studiando al pomeriggio la lingua per poter capire al mattino le lezioni della scuola, frequenta la scuola Galilei. Poi ha regalato alla società Solaria il titolo regionale di ginnastica. Addirittura ormai è diventata, si è talmente integrata da vincere anche delle gare per quanto riguarda la società a cui appartiene. Ebbene, questo è un quadro molto più sereno di quello che è accaduto a Fano. Qui una bambina, una ragazzina ormai, si è integrata perfettamente nella società italiana e chissà se tornerà in patria, probabilmente resterà qui da noi anche se il cuore è sempre in Ucraina. Quell'Ucraina martoriata che continua a essere bombardata dai missili russi. Punto nascita. Scoppia la guerra dei pediatri. Dopo gli attriti con Fano ci sono ora problemi con Urbino. La cooperativa che garantisce i turni è la stessa e i medici non bastano. L'aveva già detto il primario Claudio Ciccoli che per costituire, per attivare il nuovo punto nascita di Pesaro si sarebbe dovuto assumere altri medici. Però insomma la cosa ancora è rimasta al palo. Dopo quella tra Pesaro e Fano rischia di trasformarsi in una guerra tra Pesaro e Urbino la partita per la riapertura del punto nascita a San Salvatore. Il motivo è semplice, dice il resto del Carlino. La cooperativa privata che ha vinto la gara per la copertura dei turni di pediatria a Marche Nord si tratta della Nuova Medica di Bologna è lo stesso soggetto che fino a questo momento aveva un incarico all'ospedale di Urbino che fa capo all'area vasta 1. Ecco perché quando nel reparto della città ducale si è saputo che i camici bianchi stavano per passare alla concorrenza ma in realtà la concorrenza non era perché poi la cooperativa era lo stesso ebbene gli operatori si sono allarmati ed ora insomma questa situazione desta ancora polemiche e rimane così in cielo sospesa. E siamo ormai al termine della nostra rassegna stampa diamo un'occhiata anche allo sport vediamo come ovviamente i giornali parlano diffusamente dei campionati che ci svolgono nel Qatar dove ci sono sorprese veramente squadre di secondo piano che vincono partite con squadre blasonate il Giappone addirittura vince anche quando perde i tifosi colorateissimi come cosplay puliscono lo stadio dopo la sconfitta ebbene anche se ha perso il Giappone ha meravigliato tutti per la tecnica che ha sfoderato sul campo vediamo anche un articolo che riguarda il motociclismo vale sul podio Pecco Scalda il numero uno nel 2022 il motociclismo si è chiuso al Ranch con la 100 km dei campioni vince a sorpresa la coppia Bartolini-Baldassari l'articolo che abbiamo richiamato prima dal Corriere Adriatico che viene così pubblicato con una forma più estesa oggi dal resto del Carlino giriamo la pagina e vediamo il calcio ebbene il calcio ancora notizie deludenti la Vispesaro in cerca della vittoria Val di Fiori col Gubbio il riscatto il Gubbio è la prossima partita che ci sarà infrasettimanale gioco e qualità della manovra presenti però c'è da ritrovare il gol e se si fa un buon gioco ma se non si ottengono risultati ebbene insomma la situazione è sempre critica e anche il Fano dopo un esordio veramente molto molto bello sta perdendo partite su partite c'è vita nel pianeta Samb e Fano che botta dice Fano ha perso lo scontro con la San Benedettese 1-2 e l'ha perso in casa sembrava che ci fosse la vittoria ha segnato per primo il Fano poi c'è stato il pareggio e proprio nella zona di recupero è segnata la vittoria della San Benedettese i Granata in vantaggio fanno la partita ma vanno KO in 10 e questo appunto è il risultato finale ed ora noi invece chiudiamo la nostra rassegna stampa e vi diamo appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno questa sera alle ore 20.30 ad occhio alla notizia il ETG di Fano TV questo è tutto per il momento buona giornata risentirci grazie a tutti